Brutto notizio in casa Napoli in vista della gara di campionato che si giocherà domani sera contro il Milan alle 20.45. Victor Osimene si è infortunato e non prenderà parte la partita. Il calciatore nigeriano è stato colpito da una distrazione muscolare del dottore sinistra che lo terrà lontano dal campo per due settimane. La verità è che Osimene è tornato affaticato dalle gare con la nazionale evidenziando una problematica che molti sottolineano, ovvero le troppe partite giocate dai calciatori. Fatto sta che questa assenza alla vigilia di una gara cruciale non deve accendere nessun campanello d'allarme nella formazione di Luciano Spalletti che già a settembre perse l'attaccante nigeriano per oltre un mese e la squadra reagì offrendo ottime prestazioni, in particolare chi è stato chiamato in causa per sostituire il pezzo pregiato dell'attacco, ovvero il ciolito Simeone. Si partirà dal calciatore argentino dal primo minuto nella sfida di domani con Raspadori che tornerà in panchina. In Napoli quindi dovrebbe scendere in campo appunto con Simeone, autore del gol vittorio all'andata. Nel tridente con Cavasteria e probabilmente Lozano in balottaggio con il solito Politano. A gara in corso Spalletti potrà sfruttare anche il recuperatore a Spadori. In mediana Anghissalo, Bottke e Zuelischi, mentre in difesa con Di Lorenzo, Rachmani e Kim può spuntarla Mario Rui. Rimasta a Castelvorturno a differenza di Olivera. Guardando gli avversari, in casa Milan, Mister Pioli sarà a Napoli senza Messias, Kalulu e Ibrahimovic. Ipotizzabile che l'allenatore rossonero opterà per il 4-2-3-1 dopo le enormi difficoltà dell'ultimo periodo, anche con la difesa a tre. Giroud sarà il terminale offensivo, supportato da Salemakers. A sorpresa, probabilmente, Krunic favorito su Diaz, che non è escluso che posta a spostarsi sulla destra, e Leao. In mediana, Tonali e Benasser non sempre in discussione, mentre in difesa si rivedrà Calabria a destra, con Tomori e Chiaier favorito sul Giovetia e Teo Hernandez in amavibile a sinistra.